Stabilizzare tutti i dipendenti a tempo determinato, 42 in totale, con contratti a tempo indeterminato part-time e con la possibilità di trasformare a tempo pieno i contratti attraverso i prepensionamenti e l'aumento dei servizi svolti. Questa è la proposta dell'amministratore unico di Cogges SPA, Vincenzo Margiotta, alla vigilia dell'incontro di domani alle 15, quei sindacati sulla vertenza dei dipendenti con contratti scaduti e in scadenza. La proposta di stabilizzazione sarà sottoposta all'approvazione dei soci componenti del controllo analogo del 25 febbraio prossimo. La soluzione scelta sarà inserita all'interno del bilancio di previsione 2019, la cui discussione in assemblea dei soci è prevista per il 28 marzo prossimo. Dalle verifiche effettuate, Cogges ha bisogno di 47.554 ore di lavoro annue, pari a 24 dipendenti di livello 2, gli operatori, in full-time o a 42 in part-time. La seconda ipotesi consentirebbe nel tempo di trasformare i contratti a tempo ridotto con l'espansione dei servizi e soprattutto con il pensionamento dei lavoratori in pianta organica. Su quest'ultimo punto, ad esempio, sono 16 i dipendenti che andranno in pensione nei prossimi 5 anni, a cui se ne aggiungerebbero altri 62 per via dei prepensionamenti avviati, per un totale di 78, imponendo all'azienda di sostituirli con un adeguato turnover. Sono 42 dipendenti a tempo determinato, 8 già scaduto a dicembre, 4 a gennaio e 16 scadenza al 31 marzo prossimo. Tutti loro sono inseriti nella gradatoria numero 9.1 del 10 maggio 2016, scadenza il prossimo 10 maggio, e non potranno più essere chiamati per svolgere servizio a tempo determinato, avendo già raggiunto il numero massimo di proroghe dei contratti a tempo determinato consentito dalla legge. La stabilizzazione dei lavoratori consentirebbe di evitare ricorso alla somministrazione dei contratti interinali, con notevole risparmio di costi per l'azienda. Altri vantaggi sono legati all'aumento dei livelli occupazionali nel territorio, alla valorizzazione delle professionalità formate, alla continuità dei servizi erogati. Il costo di 42 dipendenti part-time è di 928.467 euro annui, circa 12.000 in più, dai 916.409 euro all'anno per i 24 lavoratori full-time. che raddoppierebbero a circa 24.000 euro, aggiungendo i costi di gestione operativa.